Il palipo della Cruz, Hughes, Richwell e Buma in linea di difesa qui a De Maiore per Henry, il destro lo piazza! Non so più cosa dirvi, questo è un fenomeno, non lo so. 3-0. Il meraviglioso Henry colpisce ancora, qui bisogna alzarsi in piedi tutti, lo faccio anch'io. Che giocatore, mamma mia! Guardate ancora a De Maiore, a Di Tacco, Henry controlla, a giro e la mette nell'angolino per il 3-0 dell'Arsena, la doppietta personale di Henry. E' perfetto, è perfetto questo destro di Henry. A giro, lì, dove lo voleva mettere? 3-0 per l'Arsenaal. Qui si riesca di perdere il conto, sono 207 i gol di Henry con la moglie dell'Arsenaal, 21 con la doppietta di oggi in Premier League.